per impacchettare un regalo morbido ho scelto una carta particolarmente flessibile alla quale ho abbinato due nastri in tessuto trasparente e leggermente perlati fisso il primo lembo di carta piego il terminale e vado a creare delle pieghe molto morbide senza schiacciarle una e due da un lato le fisso con un po di nastro adesivo una e due dall'altro lato fisso e ripiego su se stesso il lembo di carta rimanente il nastro adesivo stessa cosa dall'altro lato prendi due nastri li tengo leggermente sfalsati uno sull'altro mi tengo da parte un lembo e faccio la croce passo sotto incrocio davanti di lato sotto e creo un nodo per fissare la mia croce spalso i due nastri di tutti i lati taglio ancora un poco di nastro azzurro creo un fiocco con gli occhielli molto sfalsati e li vado a fissare con il fiocco appena tagliato faccio un nodo e ancora uno nascondo un nodino sotto allargo bene e vado a tagliare le parti in eccedenza con delle inclinazioni sfalsate